All'interno della chiesa un quadro attribuito al Baldi aiuta a ricostruire con estrema precisione il fatto. Metà del Cinquecento, vicoli romani. Vicino agli archi dei cenci due giovani amici stanno discutendo, probabilmente alticci. Presto le parole diventano urla, spinte, pugni. Uno dei due sopraffa l'altro, sguaina una daga per spaventare l'amico. Ma questi da terra invoca l'immagine della Vergine, il cui affresco è lì. Sopra di loro, che li sta osservando. Al che il primo, ravveduto, si depone la spada e fa per abbracciare l'amico, che invece raccoglie il pugnale e lo uccide. In quel momento, per la prima volta nella storia, da una fresco raffigurante la Vergine Maria sgorgano lacrime. Al prossimo episodio